E' vero che chi mangia bio spreca zero? E' vero, verissimo. E anche lei, come nel suo negozio, ha aderito a questa campagna di sensibilizzazione. Sì, con molto interesse. Ecco, perché è importante mangiare biologico? Perché è più sano ed è più vero, più naturale, più salubre e tutto più.